Credo che i sovranismi, che il Papa, se ricordo bene, aveva detto che i sovranismi gli fanno paura, credo che questo qui è vero, perché sovranità, nel senso che il Papa ha la tendenza di chiudere, chiudere e escludere, mentre se vogliamo costruire un'Europa forte e unita, abbiamo bisogno di aprirci, abbiamo bisogno di dialogo, abbiamo bisogno di collaborazione. Così di insistere esageratamente sulla questione di sovranità di un Paese, in quel senso lì forse è presente qualche pericolo, non necessariamente, non è assolutamente, può darsi che ci sono anche i Paesi che riescono a fermare molto chiaramente con determinazione di loro sovranità e non cadere in errore. Credo che il Papa sta dicendo fate attenzione su questo cammino.